Questo programma è presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore, Lauren e Move You. Ben trovati in questo giovedì sera a 21.30, se come sempre super precisi, oggi si sta più o meno bene, un po' più freschi. Ma oggi ci sei tu e non c'è Silvia. No, abbiamo fatto un cambio, io faccio stasera e lei domani. Mi scombussolate la vita. Vabbè, però dai, sei tranquillo. Sono super tranquillo, anche perché siamo matching con i colori oggi, una super puntata insieme. Hai visto? Hai visto che oggi non ci siamo detti come c'è? C'è della telepatia. Assolutamente, c'è sempre stata da 15 anni a questa parte. Beh, allora oggi è una puntata come sempre ricca. Vi presenteremo in questo spazio, primo spazio, il collega Tiziano Tridente, che si occupa di tutta la parte online coadiuvata da Silvia Di Pinto. Lo leggo sempre su telebari.it. Sì, sì, Tiziano è con noi da tanti anni. Sarà un piacere averlo con noi qui a parlare di quello che accade. Beh, vedremo se sarà un piacere. Chissà, sarà una sorpresa forse. Sì, sarà una sorpresa, quanto sia antipatico verso un collega. Nella, diciamo, seconda parte della prima avremo Mareza Conte, che si occupa della comunicazione e non solo del gruppo Moviu, che fa parte del gruppo Soa e Loran. E nella seconda parte, invece, avremo il direttore generale del Policlinico Giovanni Migliore, che ci parlerà di tutti i progetti e di tutto lo sviluppo del Policlinico di Bari. A questo punto io lanceressi... Ah, scusami, una terza parte? Ci sarebbe una terza parte. Scusami, hai ragione. Sono un po' stanca. Quasi quasi preferisco Silvia. E devi vedere io, sono reduce da un'anteprima cinematografica ieri sera, che vedremo presto qui a Telebari Social. Tanto sudore, un bagno di folla, ma abbiamo interviste a Rich, che vedremo settimana prossima, però. Oggi parleremo... E perché settimana prossima? Per creare un po' di suspense, come il mondo dei social ci insegna. Oggi però ci sarà uno speciale sul TG, un piccolo assaggio. Terza parte di Telebari Social Night, parleremo di feste patronali. Oh yes. Benissimo, allora io a questo punto lancerei l'RVM dell'incendio di Santa Caterina e ti congederei. Ok, vado. Grazie. Ben trovati Tiziano, buonasera. Buonasera a te. Sono contenta di presentarti, anche se tutti li conoscono, almeno nel nostro spazio di Telebari Social Night. Un incendio che è stato domato dopo tante ore, che ha creato molti disagi sulla tangenziale e anche paura. Sì, purtroppo ce ne occupiamo ogni anno. È un tema ricorrente, questo degli incendi dell'Ester Palli. Ricordo l'anno scorso, tra giugno e agosto, due importanti incendi. Uno in zona Sant'Anna, a ridosso delle case. L'altro in zona San Paolo, anche in questo caso a ridosso delle case. Martedì ci siamo occupati di questo incendio nato, in qualche maniera, in zona Santa Caterina, in viale Caduti di Nassiria. Il vento lo ha portato, come dicevi tu, in zona Stadio, a ridosso anche dello stabilimento della Peroni e della Statale 16. La polizia è intervenuta, ha dovuto chiudere la strada, ha dovuto chiudere l'accesso 10B della tangenziale. E' un problema questo delle sterpaglie che bruciano in estate, che purtroppo va affrontato. Va affrontato, lo affronteremo, secondo me, purtroppo anche nei prossimi mesi e anche settimane. C'è anche stato un altro incendio, quello dei roghi, che sono stati, diciamo... Sì, questo è un problema che... De quel 62enne, se non erro. Sessantenne, sessantenne. Sì, questo è un problema, mentre quello delle sterpaglie è, in qualche maniera, più estivo. Ce ne occupiamo ogni estate. Purtroppo, questo dei roghi appiccati, soprattutto in zona Iapigia, in zona Celle del Campo, Carbonara, è un problema di cui... E anche Sant'Anna. Sant'Anna, esatto. È un problema di cui ci occupiamo tutto l'anno. Però... In questo caso specifico... Dimmi, dimmi. Però, scusami se mi permetto di interromperti, collega. Diciamo, la diversità è che, diciamo, molte volte si bruciano gomme e quant'altro... Rifiuti. Rifiuti, sì. Invece, diciamo, qua proprio è accendere dei roghi, così, insomma, per bruciare, per creare comunque panico. In questo caso del sessantenne, lui aveva accumulato dei materassi, dei mobili in legno, del ferro e, come spesso capita, aveva appiccato un incendio per disfarsi di questi rifiuti. Come dicevo prima, è un problema che affrontiamo tutto l'anno in determinate zone della città. Il sessantenne è stato denunciato, intercettato dalla polizia locale e denunciato. C'è stato anche un post nelle scorse ore pubblicato su Facebook dall'assessore all'ambiente Pietro Petruzzelli che invita un po' tutti i cittadini, oltre ovviamente a rispettare l'ambiente, a rispettare le regole, a evitare di... Insomma, ci sono altri modi leciti per disfarsi dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti pericolosi. Dicevo, Petruzzelli ha invitato tutti i cittadini a, in qualche maniera, denunciare, segnalare non soltanto l'incendio una volta che è stato appiccato, ma anche l'accumulo di rifiuti che, con ogni probabilità, molto spesso poi si conclude, in qualche maniera, appunto, con un incendio. Danni all'ambiente, ovviamente, sono fumi tossici che non fanno bene, danni anche alla terra, al terreno. Assolutamente, ma possiamo anche dire, tra virgolette, anche quello che è successo nel Gargano, domenica notte. Insomma, sono stati ore e ore per spegnere questo incendio enorme e questo ci fa capire che comunque sono tutti incendi dolosi. Certo, il sindaco di Mattinata, che è la zona del Gargano, interessata dall'incendio, parlava di due inneschi, di punti diversi, quindi di un incendio doloso. In questo caso i vigili del fuoco stanno ancora indagando per capire effettivamente, realmente, come è andata la situazione. Però, come dicevamo prima, l'estate purtroppo porta in dote anche questo tipo di problemi. Ma questo problema è anche una questione di sicurezza, non solo che gli alberi vengono distrutti, ma la natura, gli animali, ma anche il pericolo che ognuno di noi... Sicurezza sulle strade, Matti, perché molto spesso questi incendi arrivano proprio a ridosso, come dicevamo prima della tangenziale. L'altro giorno, scusami se ti interrompo, c'era un ingorgo enorme e stava accadendo un incidente, perché uno è arrivato ad alta velocità e stava succedendo un altro patatrack. Per questo, insomma, è una questione, come dicevi tu, anche di sicurezza sulle strade, perché la gente è curiosa, si ferma, rallenta dall'altra corsia... Insomma, di incidenti già ne abbiamo abbastanza. Se rischiamo, insomma, di ridurre la visibilità per gli incendi, per il fumo che poi arriva sulle strade, insomma, no, facciamoci bastare quello che capita, che è già troppo. Invece, abbiamo parlato l'altro giorno di una truffa... Ce ne occupiamo spesso sul nostro sito di vari tipi di truffe, quelle degli sms, truffa del pacco, piuttosto quello delle mail con una convocazione giudiziaria mai esistita, truffe, luce e gas, telefonate strane che arrivano sul cellulare, ce ne occupiamo spesso. In questo caso specifico ci siamo occupati di una truffa vecchio stile. Ecco, a Polignano c'era una ragazza, Alessia Montanaro, morta purtroppo a 17 anni, nel 2011. Ogni anno i suoi genitori organizzano un memorial, un incontro sportivo che è assolutamente autofinanziato dalla famiglia. Bene, c'è una signora, sembrava che ci sia una signora, che in queste ore a Polignano sta facendo il giro dei negozi, delle attività commerciali per raccogliere soldi per questo memorial. Bene, i familiari di Alessia Montanaro, questa ragazza scomparsa prematuramente, hanno chiarito la vicenda. È una truffa, perché loro dicono da anni, organizziamo, da 11 anni organizziamo questo appuntamento, non abbiamo mai chiesto soldi a nessuno, né per le tute, insomma le divise per il torneo, né tantomeno per altro. Quindi chiunque dovesse venire, è una truffa, non c'entra niente con il memorial per questa ragazza, quindi non date soldi a chi sfruttando questa triste vicenda cerca di arricchirsi. Invece abbiamo un altro articolo che è andato super super bene, è quello delle navette a Monopoli. Sì, è un'iniziativa che ogni anno il comune di Monopoli mette in atto, l'amministrazione del sindaco annese, delle navette da e per il mare, dalle primissime ore della mattina, addirittura la prima credo sia intorno alle 6 e mezza del mattino, nei mesi estivi di luglio e agosto, addirittura fino alle 23, fino a tarda sera, dalla stazione centrale di Monopoli a tutto il litorale Capitolo, Borgognazia, i vari Lidi, insomma, Sabbiadoro e quant'altro. Loro lo fanno ogni anno e nello specifico quest'anno credo che la novità sia due minibus che dalla stazione centrale addirittura portano nel centro storico. Un'iniziativa che hanno inaugurato da poco, appunto questa dei bus navetta ed è piaciuta molto sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook, tra i commenti, ha avuto anche molto successo. Sono contenta perché mi fa piacere questo da direttore responsabile della testata che facciamo un lavoro a servizio di tutta la gente che ci segue in tv, in radio e sul web. Allora io a questo punto, non ti dispiacere, lancerei il video intro di MoViu e ti saluterei nel frattempo per dare spazio a Mareza Conte. Buona serata, ciao. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Ben trovata dottoressa Mareza Conte, responsabile marketing di Soa Corporate. Invece oggi parleremo di MoViu, ma che cos'è MoViu per tutte le persone che non conoscono questa piattaforma? Sì, come hai detto tu, giustamente è una piattaforma digitale, cioè un sito internet e un'app che offre servizi di noleggio con conducente, cioè un noleggio con l'autista. A noi piace sottolineare il fatto che si tratta di un noleggio accessibile e quindi con delle tariffe allineate a quelle del mercato di altri servizi simili che danno la possibilità di poter noleggiare una vettura con l'autista, quindi dalla piccola macchina sino ad una macchina un po' più importante, nonché a un minivan e quindi per potersi spostare all'interno del territorio. E' importante anche perché in Puglia non c'era questo servizio, per questo un ragazzo vuole tornare a casa con gli amici e in sicurezza dopo una serata può anche fittarsi, noleggiarsi questa macchina e ritornare a casa in serenità sia per lui che per i suoi amici e soprattutto per le famiglie, perché stiamo vedendo che purtroppo ci sono molti incidenti e molti incidenti accadono dopo le feste, insomma che i ragazzi si incontrano, purtroppo si beve e accadono queste tragedie. Sì, come hai detto giustamente tu è un servizio che può essere utilizzato anche dagli adolescenti, dai ragazzi. Perché ha dei prezzi comunque. Hai dei prezzi accessibili, dicevo prima ci sono anche dei minivan, quindi un gruppo di amici che vuole andare a ballare, quindi 5-6 amici, 3-2 possono noleggiare insieme una vettura adeguata con un autista che voglio sottolineare questo aspetto, sono tutti autisti naturalmente selezionati, certificati che costantemente fanno dei corsi di guida sicura e quindi in totale sicurezza accompagnano i ragazzi in questo caso, ma chiunque a destinazione e li vanno a riprendere. Quali sono le attività sul territorio che voi promuovete? Allora io mi leggo al concetto che tu hai appena detto, quello della sicurezza. Che è fondamentale. Che è fondamentale. Noi promuoviamo la sicurezza, infatti stiamo facendo una campagna che si dirige verso questa direzione, proprio perché al di là dell'esigenza che abbiamo in Puglia della mobilità, perché tu sai che la Puglia è bellissima, è lunghissima, è una regione stretta e lunga, ma spesso non è collegata. No, assolutamente non è ben collegata. Non lo è. Per cui al di là di questo servizio a favore della mobilità pugliese, ci piace sottolineare la sicurezza. Sicurezza e quindi l'accessibilità è un servizio che in molti paesi europei, ma non solo nei paesi europei, anche da Roma in su, è utilizzato costantemente. Quanto è importante per tutti i turisti che vengono a avere un servizio del genere? Importantissimo perché i nostri artisti in primis sono persone che parlano l'inglese, non solo l'inglese ma anche altre lingue. Quindi diciamo che l'immagine che offriamo al turista quando viene in Puglia è quella di un'immagine un po' più alla portata di altri paesi europei. In secondo luogo, come dicevo prima, siamo in grado di collegare anche località che non sono servite in alcun modo, quindi località turistiche, un po' meno turistiche. E soprattutto l'app, che è uno strumento che utilizziamo tutti quanti oggi, che tutti quanti abbiamo sui nostri cellulari, ci dà la possibilità di prenotare in tempo reale una corsa che ci viene a prendere nel punto in cui noi siamo in quel momento e ci accompagna. Beh, benissimo, insomma, grazie di questa delucidazione. L'app per questo? MoveU. 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 MoveU, va benissimo. Grazie, dottoressa Mareza Conte. Qualche minuto di pubblicità e torneremo con l'intervista al direttore generale del Policlinico Giovanni Migliore. A fra poco.